Ciao a tutti, con questo video voglio presentare la mia amica Maura, che è anche una compagna di tango argentino, che è un'ottima ballerina di tango argentino, che canterà una canzone, lei è anche una brava cantante, e quindi in occasione del suo compleanno, quindi colgo anche l'occasione per fare gli auguri a Maura e ascoltatela che è veramente molto brava. Ciao! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti